Benvenuti nel mondo degli orologi ZEITWINCEL. ZEITWINCEL è un marchio di orologi svizzero che ha conquistato il mercato grazie alla sua attenzione per la precisione, l'affidabilità e la bellezza dei suoi prodotti. Fondato nel 2006 da un gruppo di esperti del settore orologero, ZEITWINCEL si concentra sulla produzione di orologi di alta gamma che riflettono l'importanza del tempo e l'eccellenza dell'orologeria svizzera. La parola ZEITWINCEL in tedesco significa angolo di tempo, che rappresenta la filosofia dell'azienda di creare orologi che riflettono la precisione e l'importanza del tempo. Ogni orologio ZEITWINCEL è fatto a mano in Svizzera utilizzando tecniche tradizionali dell'orologeria svizzera. L'azienda si concentra sull'utilizzo di materiali di alta qualità e su un design elegante e minimalista. Ogni orologio ZEITWINCEL è certificato dal controllo ufficiale svizzero dei cronometri COSC, il che significa che ogni orologio è stato sottoposto a rigorosi test di precisione e affidabilità per garantire la massima qualità. Ciò dimostra l'impegno dell'azienda per la produzione di orologi svizzeri di alta gamma.